E se ti dicessi che io non sono io? Per esempio, ci sono delle tecniche che ti fanno sembrare a volte quello che non è e sfruttando un principio che ogni buon hacker conosce è il trust, cioè la fiducia che si staura tra me che sono al telefono o un messaggio o un'email che io posso mandarti e tu che credi che io realmente sia quello che ti faccio vedere che sono, però potrebbe essere che non sono realmente chi sono. Per esempio, potrei essere una società di assicurazioni, potrei essere una banca, potrei essere un tuo amico, potrei essere un tuo conoscente, potrei essere chiunque e tu non ci crederesti che io non sia quello che ti faccio vedere che io sono. Ora, dopo tutto questo giro di parole, ti dico che una delle caratteristiche di un buon hacker non è quella che si vede nei film che clicca o scrive due comandi e pamfete, gli appare tutto. No, quello è solo nei film. Una delle caratteristiche principali che un hacker dovrebbe o deve avere è la pazienza. La seconda è la ricerca. La ricerca delle informazioni è importantissima. E dove si trovano queste informazioni? Beh, si trovano per esempio nei curriculum, si possono trovare per esempio nei siti social media, per esempio Facebook, si possono trovare in alcuni dettagli di foto su Instagram, su TikTok, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure si possono trovare anche su Google, semplicemente. Poi ci sono programmi tipo programmi o, in questo caso, website, che si vengono etichettati come OSINT. Ti permettono di fare ricerche. Ad esempio, questo che vedi qui è uno dei tanti. Io ho già preparato qualcosa, per esempio questo. Ho messo country IT, cioè Italia, e mi fa vedere i servizi che io poi posso, per esempio, scegliere la città, le porte, le aziende, e vedere se ci sono dei servizi che io posso attaccare. E vi posso dire che ce ne sono tanti. Ho, per esempio, un altro. Questo è per i server web in Italia, che sono esposti su internet. Per esempio, questo. O, per esempio, questo qui. Guarda, questo è Telecom Italia. Se io lo apro, fammi aprire anche questo. Vedi? Questo è assolutamente senza nessuna protezione. Io ho già un, così, a occhio, ho già una prima idea. La prima è che usa la pagina di default del Windows Server. La seconda è che non usa nessun certificato. Quindi le informazioni da questo sito o su questo sito non sono criptate. Idem per questo. Non mi fa vedere niente, però io già vedo che non è criptato. Poi ci sono altre opzioni, per esempio, diciamo, Explore e Camera. Per esempio, qui ci sono i vari vendor, le marche, IP Camera, IP Camera Web Server, Network Camera. Guardiamo questo, per esempio. Lui mi apre e mi fa vedere che questa è dall'America. e mi fa vedere qui, come vedi, già gli screenshot. Quindi queste telecamere sono attive e non hanno nessuna protezione. Vero è che questa sembrerebbe che punti verso il mare, però questa punta verso alcune case. Io, avendo l'indirizzo IP, posso orientativamente capire in che area si trova. Poi, se sono del posto, posso, volendo, con delle ricerche particolari, capire dove si trova esattamente queste case. A prima vista non avrebbe significato. Sì, se fossi però una brutta persona, io posso vedere quando e chi è in casa e quando esce. Ad esempio. Poi, ci sono altre cose. Questa è quella più simpatica di tutte. Ed è questa. Allora, prendiamo e andiamo su Banca Assicurazioni Generali. Lo stesso programma, Osint, non questo sito, ma altri, si possono trovare le... Come si chiama? Le persone. Le correlazioni tra persone. Per esempio, ti faccio vedere questo screenshot che è stato usato per fare una truffa, che è sulla Postepay. Non si paga mai tramite Postepay. Mai, mai e poi mai. Ma soprattutto, dovete sempre tenere in mente la regola principale. Zero o zero trust. Cioè, non credete mai a nessuno. Le banche, organi istituzionali, eccetera, eccetera, non vi chiameranno mai. A meno che, chiaramente, quello che vi chiama è un amico della banca, che voi conoscete la voce, l'avete visto magari il giorno prima, e vi dice, oh, ciao Valerio. Allora, ieri, quando ci siamo visti qui in ufficio, ma altrimenti, mai, non credete mai a nessuno. Ora vi farò vedere una cosa, che ve la faccio vedere solamente in funzione. Non vi spiego come si fa, perché non è, cioè, per certi versi è legale, ma l'uso di questa cosa potrebbe essere illegale, e quindi io non voglio farvela vedere. Quindi, in linea di massima, non credete mai a nessuno. Comunque, prendiamo il numero di assicurazioni generali, per esempio. Assicurazioni, vediamo un po'. Questo è in russo, non lo dà in russo perché sono collegato con la VPN, ma, comunque, area clienti, assistenza. Vediamo un po'. Assistenza, cosa ci dà assistenza. Numero verde, 800, 880, 880. Bellissimo. Se io, grazie a delle ricerche particolari, grazie a dei software particolari, io riesco a trovarti, e a sapere che te sei un assicurato, sai, scusami, assicurazioni generali, io, con una semplice modifica, per esempio, ti faccio vedere questo. Abbiamo detto che il numero è 800, 880, 880. stiamo a guardare cosa succede. Copio. Ora, per il momento non vedi niente, però dammi un attimo che vedrai. provo con il numero verde. Con il numero verde non l'ho ancora provato, però con gli altri numeri non c'è problemi, funziona tutto. E io provo qui, a chiamare il mio cellulare. Guardiamo cosa succede. Suona. Ok, il numero verde non funziona. Fermati. Con il numero... No, no, me lo fa chiamare. Poi, soprattutto, non so perché, non mi fa vedere il display. Sì, perché i numeri verdi, molto probabilmente, non funzionano. Però, spettanati. Allora, proviamo con un altro numero. Proviamo con Revolut. Questo funziona di sicuro perché ho provato oggi. Revolut supporto clienti. Contatta Revolut. Bla bla bla. Vediamo un po'. Audio contact the customer service. Ehm... numero più 44203322852. 8352. e riprovo a chiamare il mio cellulare. Che spero questa volta funzioni bene. Un attimo solo. fammi prendere questo. Eh, lo vedi che non funziona. Annydesk per il cellulare mica tanto buono, sai. però sfortunatamente. Ehm, lo vedi che non funziona. 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 è Revolut. E ho trovato le tue informazioni, chiaramente, prima di chiamarti, eh. Ehm, lo vedi? Si incanta. Io... Vero Dio se capisco questo programma. Vabbè, ora chiudo questo e ve ne faccio vedere degli altri. Per esempio, facciamo che... Ehm... Chi si prova? Proviamo. Qualcuno in Italia. Chi si può provare in Italia? Ehm... Proviamo con Banca Intesa. Banca Intesa. C'è un bel numero che non sia un numero verde. Assistenza clienti Banca Intesa. Ah, bellissimo. Il numero ufficiale è 0039. 011-801-9200. Adesso riprovo a chiamare il mio cellulare. E guardiamo cosa succede. Succederà come prima con Revolut. Uguale. Eccolo qua. Ora ve lo faccio vedere da qui che si fa prima perché tanto con Anidesk non funziona. 80-92-0. Ah, ho fatto uno 0 o meno. Comunque il numero è questo. Ah, dov'è? Eccolo qua. Eccetera, eccetera, eccetera. Ecco perché non dovete mai credere a nessuno. Zero trust. Zero trust. Non credete mai a nessuno. Se vi chiamano e vi dicano sono del Dipartimento di Sicurezza, la sua carta e i suoi soldi è una truffa. Al momento che rispondete vi stanno truffando. non inviate mai soldi a nessuno. Lo so che potrebbe sembrare una cosa ovvia ma sfortunatamente c'è persone che lo fanno per questa cosa innata delle persone di credere di credere in questo che è un problema che è il trust la fiducia di dare fiducia perché il numero è giusto te conosci i miei dati e te mi... io ci credo che sei pinco pallino. Dal CV il CV europeo è una fonte inestimabile di dati con il CV europeo avendo il vostro nome e cognome che di per sé non servirebbero a niente ma ho la vostra data di nascita e so anche dove vivete e non solo per alcuni casi si potrebbe rivelare pericoloso ma con queste informazioni io posso fare il codice fiscale con il codice fiscale io posso aprire un conto corrente online senza che tu sappia niente vi sto rubando l'identità queste cose magari una persona potrebbe come dire sembrare cose da film ma è la realtà quindi non credete mai a nessuno questo è il mio consiglio e comunque questo tipo di tecnica di camuffare il numero del telefono si chiama spoofing callerid spoofing e per farlo intanto ci vuole di trovare delle cose che non sono facili da trovare perché ovviamente queste cose sono state autorizzate per poter fare questo spoofing call e normalmente se cercate su internet non troverete niente che vi autorizza a fare questo quindi vi scoraggio subito dal provarci spero che questo video vi abbia fatto in qualche modo capire come funzionano queste cose come è facile trovare informazioni è come è facile usarle contro di voi quindi quando scrivete qualcosa sui social quando pubblicate qualcosa sui social ricordatevi sempre che nel mentre voi divertite vi state divertendo c'è qualcuno che vi sta tenendo d'occhio sempre 24 ore su 24 quindi attenzione a quello che pubblicate perché possono sempre usare i dati contro di voi rubandomi chiaramente solitamente soldi fate attenzione ciao e grazie per aver guardato questo video grazie a tutti